buongiorno a tutti traders e investitori in questo video andremo a vedere come effettuare un ordine sulla trader workstation la piattaforma tvs è molto professionale e offre diverse soluzioni per creare un ordine oggi per comodità andremo a vederne una sola facciamo clic con il tasto destro del mouse sulla riga dello strumento e selezioniamo acquistare per l'ordine di acquisto o vendere per l'ordine di vendita ora andiamo a impostare i principali parametri dell'ordine andiamo su quantità per selezionare il numero di azioni da acquistare o il controvalore da investire in dollari andiamo su tipo di ordine per selezionare la tipologia di ordine che vogliamo effettuare per eseguire un ordine al prezzo di mercato selezioniamo market una volta impostate le principali caratteristiche dell'ordine clicchiamo su trasmetti si apre una finestra ora dentro la quale troviamo tutte le informazioni che più ci interessano in modo che possiamo verificare l'ordine prima di trasmetterlo a mercato cliccando signore trasmetti nel caso in cui il mercato fosse aperto l'ordine verrà eseguito so so lo